Il palacalafiori è ormai il punto di forza, lo ha dimostrato anche contro Roma la Viola battendo la 72-60, sono così 4 ora le vittorie casalinghe. Dunque non può che essere soddisfatto coach Calvani che ai suoi può solo rimproverare un primo quarto in cui una Viola, irriconoscibile in difesa, subisce 21 punti. Tutto il resto è da lodare contro una formazione comunque in piena rinascita. Penso che ormai dopo un giro di boa, mezzo giro di boa dell'andata sia estremamente chiaro che ogni partita è una partita che ha sempre dei risvolti molto difficili da poter inquadrare. Sapevamo della potenzialità e della difficoltà nell'affrontare un avversario secondo me di buona caratura perché ci sono tanti giocatori che hanno esperienza, che sanno come stare in campo. È una partita molto insidiosa. Fare complimenti ai miei giocatori perché una squadra che riesce in una partita così difficile come tutte a tenere otto palle perse significa che sei all'interno della partita. Maria Chiara Sigillò per la CNews24